Ciao a tutti! Oggi prepareremo la peperonata al tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono peperoni tagliati a fette, olio, aceto di mele, zucchero, tonno sotto olio sgocciolato, aglio, prezzemolo e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i peperoni, l'olio, l'aceto di mele, l'aglio, il sale e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 30 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità 1. Aggiungere il tonno, il prezzemolo, ed amalgamare per 10 secondi, anti-orario, velocità 1. la peperonata è pronta. Impiattare. Peperonata al tonno. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.